Ok siamo tornati in live, la partita è iniziata adesso, ma io mi devo ancora collegare ragazzi Metto un attimo di pazienza perché oggi in contemporanea con Twitch saremo anche in diretta su YouTube Quindi insomma, doppio gioco Perché devo fare l'accesso, perché devo fare l'accesso ragazzi Adesso siamo già in area del Bologna, 2 minuti e 40 Oddio, oddio Adesso sviluppa bene con Barro che fa correre Iki Si propone Barro, Iki vuole il mancino e il piede forte Attenzione a Iki, la palla è dentro Che occasione per Mitchell Deix, 3 minuti, 20 secondi Aggancia Piselli, Deix Posizione regolare, si brucia il calabria, poi aggancia a merda perché è un terzino Fernandez Bremedia, Fernandez rimane lì Perché Giroud si è allontanato dalla palla Bologna aggressivissimo Destro Messias, Messias, può tirare Messias No vabbè ragazzi Perde il pallone Vabbè ragazzi, cosa ho visto Si è portato la palla a 60 metri, 10.000 compagni non l'ha passata Giocando così ragazzi Non voglio essere disastroso perché guardi la classifica Puoi essere tutto meno che disastroso però Giocando così Non ti dico che non vada da nessuna parte Ma ti devi preoccupare Perché uno che porta la palla a 60 metri con 4 compagni liberi Non puoi Non dare la palla Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi Io non ho paura del Bologna Della verità Cioè Tranqui Io ho paura del Milan Perché solo il Milan può Non fare risultati In partite del genere Leao scivola ragazzi Con palle Che palle Che palle ragazzi Che palle 15 minuti ragazzi Poca poca roba Poca 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 roba Leao fa qualcosa Mi prego Va dentro Flipper Leao fuori Ragazzi 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 Non No Ragazzi no Di solito quando usiamo le maglie speciali Non vinciamo mai TBT Milan Zassuolo 2019 0 a 0 Cura maglia dei 120 anni Frustranti questi errori Cioè mi sbaglio in una triangolazione Di testa Di cross Di palle in attiva Al Bologna Ci sa fare palla dentro Magna Questo è fallo Ebisher Magna Ma qua c'era un fallo clamoroso Su Benna 6 ragazzi Qua c'era un fallo clamoroso Su Benna 7 Cioè se l'è saltato E l'ha dato una comitata in faccia Questo è un fallo Per tutta la vita ragazzi Messias Che palla che ha ricevuto Pa dentro Giroud C'è nessuno C'è invece Prendi Azz Chiedono una mano Che non c'è Che non c'è Dovete capitalizzare meglio Queste occasioni Quella ragazzi Cioè io ho visto Lazio Bologna Era allo stadio olimpico Bologna ragazzi Faceva acqua Da tutte le parti Ma qua non è colpa di Bologna È colpa nostra Che stiamo giocando Alla fine male Ternandez Hai rotto i coglioni Fattelo dire Hai rotto i coglioni Ternandez Veramente Musabarro Non si può ragazzi Io vi ringrazio Per la stagione Che state facendo Cioè essere Il 4 di aprile Prima in classifica Finiscala come finisca Io vi devo fare un monumento Però ragazzi Tra Napoli Empoli E Cagliari Io non posso veramente Perdere 20 kg Ogni partita Non posso Non posso Non posso Non posso Oh mi raccomando Messias Non lo fare Il pressing alto Tranquillo Bene 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 Bella per Giroux Che fa la sponda Calabria Sì terzo anello Ragazzi No non si può Non si può Non si può Male 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 Calcio d'angolo Palla dentro Calulu Solo la linea di porta Si allunga Ternandez Fuori Brain Diaz Vabbè Dato che ci sei Vai avanti quanto vuoi Vai avanti Altri 10 metri Arriva a gallarate Con la palla al piede Invece che scaricarla Bello Leao scivola ancora È la quarta volta Che scivola A questa partita Leao Poi scivola anche Calabria Calabria Tira tu 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 Oh No Arnautovic Chiude Chiude Tomori Incazzato come una iena Con i suoi Giustamente Brain Diaz Si fa portare via palla Vabbè fallo Giallo Ma che cazzo Dalla via la palla Dalla via la palla Questa è una delle partite Più brutte e noiose Che abbia visto quest'anno Chiudiamo il primo tempo In vantaggio Per favore Ternandez Dentro verso Giru Oh finalmente un'azione Fatta a moto Dext Tomori Non c'è fallo Grande Regà Regà Porco Dio Cazzo Tonali Giru Cosa ha preso Skorupski Ancora palla lì Leao Che parata ha fatto Ok 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 Stiamo addrizzando il tiro Un pochino più angolata Ragazzi Questo era gol Tutta la vita Magari anche Sull'altro palo Grande Teo Fischia Fino il primo tempo Orribile Orribile Ci siamo un po' ripresi Nel finale ragazzi Ma Ma male Ma male Ma male Ci vediamo nel secondo tempo Ragazzi Ci siamo ragazzi Per il secondo tempo Solito Teo Dell'intervallo Ho cambiato la tazza Perché la tazza rosa Aveva portato bene Contro il Napoli Ma ha portato male Contro la Macedonia Quindi Per ringraziarli La tazza Del Liverpool Giustamente Vanno ringraziati In un certo senso No Rebic per me sia Grazie 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 davvero Rebic per Messias Grazie Dai Inizia il secondo tempo Di questa battita Che Non mi sta proprio piacendo Ragazzi Vai Fai la cosa giusta La da prendi Aschietto rendiato Rebic Leao Leao Skorupski Con i piedi L'aveva messa anche sul primo palo Ha fatto un tiro Della madonna Barrow Destro fuori Ragazzi 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 Ho visto tutto Ho visto tutto Ragazzi Tornali Rebic Pari male lì Leao Si gira Non tira Ben Nasser Calcia malissimo Ancora una volta Ha mancato un po' Di fluidità Mi fate Rinsecchire le palle Ora Carnatovic Sempre Cassano Se il Cassano del Parma Ci può stare Però ora Con tutto rispetto L'Utto Hernández Che visionario per Calabria Raffelino Si muove Calabria Leao lo serve Bello Calabria Calabria No A centimetri Dall'1-0 Davide Calabria Ce l'aveva già provato Nel primo tempo Qui Molto più vicino Che del calcio Dall'angolo Il capitano del Milan Nooo Fuori di nulla La toccata Medel Sto qua dato di messa al fondo Ce la facciamo a fan goal In 29 minuti ragazzi Ce la facciamo a fan goal Di ficcare Quella cazzo di palla in porta Dai Dai Ken Lo stanno facendo un cazzo Sti qui Leao Malissimo Con sinistro In controbalzo Deve far questo Non può stoppare la palla Perché ci sono troppi giocatori Perché Si ho capito che un po' stoppa la palla Ma che cazzo però Comunque teatro fortissimo ragazzi Ben Nasser Skrubski in angolo Entra Ibra Entra che si anche Ibra Che si leao Palla che ha messo Ibra 40 secondi che è uscito Ben Nasser Già si sente la differenza In negativo ovviamente Ci sono due cose darissime nella vita Che proprio non vedrete mai Uno è la neve nel deserto Due è Leao che passa la palla Cioè Fa rimanere a terra Ibra Per una testa A testa ce ne vuole Ibra con la fascia in testa E comunque Cavoccia contro Cavoccia L'ha vinta Ibra alla fine Tomori Non regge più Bologna Non regge più Florenzi Skrubski E' inutile che fate il sold out Se poi giocate così Io becco Calulu Tonali Va dentro Tomori Troppo Completamente solo Poteva anche me la perla giù Le ho dentro Rebic Si vabbè metri cross per Braindia Sul metro e 21 L'assistente ha bloccato ancora Skrubski Un'altra scelta di Lo c'è Florenzi Pardon Tonali che va al cross Dove c'è Tonali Ibra Fuori di nulla Salta più di tutti Ibraimovic Non riesce a dosare bene Ragazzi è finito Ragazzi Non c'ho più Non c'ho più forza Non c'ho più niente Ragazzi Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ternandes dentro Skrubski Quante la prese ragazzi 31 tiri Pare la Juve ieri sera Male 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 Ragazzi Male Finisce Ciao 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 Ciao